Uno dei costruttori più all'avanguardia nel settore delle bifuel è sicuramente Opel, che con la sua Corsa GPL vuole conquistarsi una fetta importante del mercato più giovane. Ed è lei la protagonista della settimana. Opel Corsa ha 34 anni, ma giunta com'è alla quinta generazione, non li dimostra proprio per niente. Questa compatta, lunga 4,02 m, è stata via via completamente rivoluzionata. Ha tuttavia mantenuto nella sua storia due punti fermi, un elevato value for money, cioè un rapporto molto buono tra quanto si spende e quanto si compra, e l'offerta di soluzioni che consentono bassi costi d'esercizio. L'esemplare messo sotto la lente da SafeDrive, la Corsa GPL Tech, infatti, è ancora più risparmioso, perché dotato della doppia alimentazione benzina GPL applicata al 4 cilindri da 1398 cm3, che eroga una potenza di 90 cavalli e 124 Nm di coppia a 4.000 giri. Un impianto progettato dallo specialista Landy Renzo. Prima di accendere il motore della Corsa GPL Tech per la nostra prova, facciamo una rapida ricerca per capire come siamo posizionati rispetto ai distributori che erogano il gas di petrolio liquefatto destinato a riempire la bombola toroidale che occupa il posto della ruota di scorta e non incide sullo spazio destinato ai bagagli. In Italia ci sono quasi 3.500 impianti e la partenza della prova è da Milano, dunque non dovrebbero esserci problemi. Quando brucia GPL, Corsa GPL Tech rappresenta un buon compromesso tra la progressione fluida e un'andatura da buona passista senza acuti. Proprio quello che c'è da aspettarsi da un'automobile non votata alle performance, bensì all'ottimizzazione dei consumi. Sulla plancia si trova il pulsante di commutazione Benzina GPL, che sfrutta un nuovo modulo di controllo per la migliore fluidità di transizione da un carburante all'altro. Il computer di bordo offre il dato di autonomia e di consumo sia per i singoli carburanti, sia per entrambi. La soddisfazione maggiore si raggiunge quando si contano le banconote rimaste nel portafoglio. Perché per percorrere mille chilometri bastano una quarantacinquina di euro investiti in GPL. Corsa GPL Tech dispone di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'allerta angolo cieco, la telecamera anteriore Opel Eye, con riconoscimento dei cartelli stradali, e viene offerta in tre diversi allestimenti, Enjoy, B-Color, Cosmo. Il listino va da 15.020 a 16.220 euro e da acquistare dalla lista degli accessori il pacchetto di assistenza al parcheggio.